Pronti? Pronti? Aspetta, aspetta il mio segnale per la gara Siamo pronti per la gara, adesso la gara, adesso Su le mani, campioni Dai, 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 veloci, 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 veloci Scattare, 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 occhio c'è la rentola, la coda Su le mani, su le mani Dai, arriva, 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 arriva Colpito Buongiorno 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. La riva è prossima.